30 giugno 2023 a Giorgia Meloni può sorridere. Scrive la stampa. Perché il premier continua ad avere alti livelli di fiducia e gli italiani sono d'accordo con lei. Sul MES. Alessandra Ghisleri. Direttore di Euromedia Rich. Presenta i dati dell'ultimo sondaggio secondo il quale per un cittadinoso 2 Il governo di Meloni è. Fermo e compatto. Nato critiche e rischi. Bisogna riconoscere che Giorgia Meloni rimane stabile sopra il 40 nel suo indice di fiducia. Confermando l'armonia con una buona parte del paese. Commenta i sondaggi che spiegano anche i fratelli ofitali. Fino ad oggi. Non sembrano mostrare crepe nel consenso raggiungendo le intenzioni voto sempre vicino alla soglia. Del 30. Fratelli d'Italia mette il turbo e le mosche partito democratico surclassato. La Lega mette la freccia tra le cose che più preoccupano gli italiani c'è l'inflazione. Con l'aumento dei prezzi considerati insostenibili. La ratifica del MES la cifra più importante. Sulla questione. È che il 33,5 degli italiani non sa di cosa stanno parlando e come potrebbe essere utile per il nostro paese. Tuttavia. Il 38,9 dell'intero campione si dichiara a favore della sua ratifica. Sondaggio Beckfull per il partito democratico Schlein in Free Fall allora. Ghisleri parte degli. Interventi in Parlamento del Premier davanti al Consiglio di Europa. La migliore mossa di mirare a essere protagonisti in Europa sfruttando le difficoltà di paesi come. La Germania. Che finora hanno dettato il ritmo delle decisioni dell'Unione. E in un certo senso abbiamo già registrato questo comportamento nelle ultime interventi in. Parlamento del Premier. Una Meloni Nel che ha ricordato i toni precedenti alle elezioni. Spiega Ghisleri. Una Giorgia a cui tutti hanno imparato sapere fino allo scorso anno. Quando era un leader solitario dell'opposizione. Il passo successivo è il più complicato che deve trovare la combinazione perfetta e la sintesi tra. Essere Giorgia. Donna. Madre. Cristiana. Italiana e Presidente Meloni. Conclude il sondaggio. Dalla intenzioni voto sondaggio ricerca Euromedia. La cifra degli ID e sta crescendo dello 0,4 si attesta 29.2. Ma anche il crollo del 1,1% del. Partito Democratico Ellis Line e il salto movimento a 5 stelle Giuseppe P e Conte che guadagna l 1,2. Sale 16,2.